eccoci qua buongiorno a tutti ragazzi partiamo con il rimontaggio dei nuovi leveraggi per farti le comprate sfuse iniziamo a scaldare il pezzo in modo che si dilatta ok un po' di olio dovrebbe essere già giusto qua è andato mettiamo l'altro eccoci qua ok adesso mettiamo il vincolo dell'ammono ammortizzatore ecco questo è il vincolo dell'ammono ammortizzatore che ho sbloccato e ho messo semplicemente due or e un or rigido adesso si schiaccia fuori vedete si è rigonfiata la plastica cioè l'or trovato un anellino proviamo a mettere dentro l'or all'interno dell'anellino in modo che lo tenga lì bisognava già farlo prima allora niente praticamente l'ho fatto uscire un pelino con due colpi di martello abbiamo messo quest'anello che tiene le guarnizioni in posizione e adesso vediamo di farlo andare dentro non dovrebbe più scappare una volta che superano la guarnizione super al labbro non dovrebbe esserci più nessun problema questo è quello che era eccessivo anche tiriamolo via anche perché era arrivato in battuta sì diciamo di sì eccolo qui ok questa parte è fatta con un piccolo sacrificio di or però basta che rimane dentro